Il giornalerà di Vivi Centro Network Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivi Centro Network Direttore Mario Vollono Palermo, giovanissimo rapinatore arrestato dalla polizia di stato Aveva commesso due pericolosi assalti a scopo di rapina Giovanissimi, ma già rapinatori in carriera Hanno commesso un errore che gli è stato fatale E che ha consentito agli investigatori della sezione antirapina della squadra mobile Unitamente ai colleghi del commissariato di pubblica sicurezza Zisaborgo Nuovo Al termine di un'articolata attività investigativa Di dare congiuntamente esecuzione ad un provvedimento di custodia cautelare in carcere Nei confronti di Di Stefano Salvatore Ventenne residente nel popolare quartiere della Noce Grazie a scrupolosi approfondimenti investigativi È stato possibile contestare al malvivente due diverse rapine Compiute a distanza di pochi mesi Di cui una portata a termine e l'altra fallita per il tempestivo intervento degli agenti di polizia Termina così il nostro momento di informazione Chi volesse approfondire le news ascoltate Può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno Sul nostro network vivicentro.it Nelle nostre edizioni regionali e sportive Grazie a tutti